le ragazze si volsero alla porta che si apriva irma con un asciugatoio sulle ginocchia si stava facendo le unghie anna in sottoveste di seta bianca leggeva il fascicoletto del film romanzato sogno d'amore gioia le mani abbandonate sulle ginocchia il volto dal mento quadrato a cui soltanto gli occhi azzurri nettamente disegnati dalle ciglia lunghe e la freschezza giovanile della pelle davano interesse lo sguardo fisso dinanzi a sé e così cupo da sembrar che la ragazza stesse per piangere non si mosse clara parsa sulla soglia diede un'occhiata a un cartoncino che aveva tra le mani e ordinò svelte ragazze c'è gente anna metti il 24 12 irma il 24 37 e tu gioia infila il 75 degli abiti da sera con la k si volse e gridò nel corridoio papina viene ad aiutare le indussatrici scomparve dopo aver ripetuto i tre numeri che aveva verificati sul cartoncino irma lanciò in aria l'asciugatoio e la limetta per le unghie ve l'avevo detto sono le undici e mezzo e già cominciano vedrete che allegria tutto il giorno dopo i dilitti di ieri le clienti verranno in processione a farsi mostrare i modelli per curiosare qui c'è puzzo di cadavere aveva aperto l'armadio e faceva scorrere i cartellini coi numeri lo sapevo il 24 37 è proprio l'abito che detesto staccò la stampella e trasse il vestito che gettò in terra sul tappeto con un movimento rapido si sganciò la sottanella che indossava diede una tirata alla chiusura lampo del giubbonetto e apparve anche lei in sottoveste di seta bianca alta e svettante come un giovane giunco presto papina preparami i pantaloni è proprio la giornata adatta per mettersi in vestito da spiaggia papina aveva i capelli grigi il viso paonazzo e sembrava un topolino ammaestrato uno di quei topolini bianchi che si rizzano sulla coda e poi ricadono a piatto col ciac del pancino contro il pavimento lei si era rizzata sulla coda e ci rimaneva per un miracolo di equilibrio che lasciava perpresso chi la vedeva muoversi su quelle sue gambette ad accento circonflesso e i piedini tondi e buffi ma aveva le mani così leggere rapide e destre che non si sentivano neppure quando abbottonava un vestito o lacciava una cintura tirando la gonna sulle anche per adattarvela nel prendere dall'armadio i pantaloni azzurri e la fusciacca gialla per irma passò dietro alla seggiola di gioia e scrollò la ragazza per le spalle presto bellezza se rimani incantata il principe non ti porta lo sposalizio lei aveva letto le fiabe si beava ad essere ad una facezia irresistibile e diceva sponsa l'inzio convinta di imitar macario che aveva visto al cine gioia si scosse e si alzò e cominciò a togliersi l'abito nero che portava anna le andò accanto coraggio bambina ti sei tolto un dente tra poco non sentirei più nessun dolore che ci vuoi fare forse è meglio così gioia le diede un'occhiata da cane frustrato e sospirò dici così perché non lo conoscevi come me ci dovevamo sposare lui e irma che si stava infilando i pantaloni sbottò in una risata ma subito dovette appoggiarsi all'armadio per non cadere anna le aveva dato un urtone non vedi che soffre sul serio è una cretina se soffre valerio non valeva ma taci dunque gioia aveva gli occhi pieni di lacrime su bellezza adesso ti ci vorrà il truccatore sta a sentire che ti dico una branzenletta e papina con una mano armata di fazzoletto le asciugava le lacrime mentre con l'altra la aiutava a togliersi il vestito in quel momento De Vincenzi sbucò nel corridoio venendo dall'ascensore era arrivato in corso del littorio da pochi minuti e nessuno tranne cruni e il custode lo aveva veduto ancora davanti alla porta aperta delle indossatrici si fermò a guardare anna lo vide e fece ssssssss le altre si volsero e ammutolirono lui sorrise buongiorno signorine sono venuto anche per parlare un poco con voi altre la voce di marta gli risuonò alle spalle buongiorno commissario le ragazze sono attese in salone non potreste rimandare più tardi l'interrogatorio ma certamente che cosa fate un'altra sfilata di modelli oh no ma ci sono clienti hanno chiesto di vedere alcuni abiti e noi li mostriamo sempre addosso alle ragazze capisco si avviò verso la porta dell'amministrazione con a fianco marta che lo sbirciava di sottecchi anche voi siete occupata? no c'è clara che ci pensa e del resto non credo che concluderà nulla quelle signore sono venute richiamate dallo scandalo avete letto i giornali? De Vincenzi sorrise era inevitabile e la signora O'Brien? è nella sua camera non l'ho veduta ancora stamane credo sia sofferente inevitabile anche questo posso entrare? teneva la mano sulla maniglia della porta quella porta per la quale Evelina doveva essere entrata tante volte accomodatevi in direzione c'è il signor O'Lari nella stanza di Evelina trovarono madama Firmino non era più in vestaglia naturalmente ma indossava un costume mascolino grigio ferro coi pantaloni larghi sulle scarpe e suola di sughero andò incontro a De Vincenzi ho pensato tutta la notte a quello che può fare la polizia quando si trova due cadaveri addosso e nessun indizio sicuro che le permetta di procedere ad un arresto voi potete illuminarmi commissario perché per conto mio la domanda è rimasta senza risposta parlava con ironia ma aveva lo sguardo febbrile si indovinava sotto quella sua apparente indifferenza uno stato di preoccupazione intensa e per di più i nervi di madama Firmino non dovevano essere dei più sani e dei più solidi nonostante le sue cure elioterapiche la polizia, madama Firmino non può far altro che cercare e aspettare ma chi vi ha detto che in questo caso non si abbiano indizi? una piccola impronta ben chiara? la cenere di una sigaretta? l'assassino ha firmato dunque il suo delitto? rise, falso e fece una giravolta su se stessa per tornare verso il tavolo della contabile intanto Evelina non c'è più e non mi direte che essa occupava poco spazio? c'era una reale commozione nel suo accento e De Vincenzi pensò che la ragazza più che sulla sorte della povera Zetella si commuoveva sulla propria era facile supporre che madama Firmino aveva paura e che doveva aver barricato la porta della propria camera quella notte ma di chi aveva paura? si era appoggiata con la schiena alla scrivania e fissava De Vincenzi che ne direste commissario se io facessi le valigie e me ne tornassi in Francia? me lo impedireste? per qualche giorno ancora credo di sì, signorina scosse la testa con desolazione credo proprio che non potrei permettervelo me lo aspettavo volse lo sguardo su Marta allegria Marta sto pensando a un vezzoso modellino da lanciare una leggiadra cappa di seta nera con tanti piccoli teschi da morto sbalzati in argento farà impressione e le darete il numero 13 dolores! esclamò Marta con rimprovero e doveva essere molto turbata anche lei per chiamarla col suo nome vero se andasse a fare la vostra cura di sole invece di star qui a dir sciocchezze madama Firmino alzò le spalle e gettò la sigaretta per terra in quel momento Olari apparve sulla soglia della direzione guardò le due donne e poi De Vincenzi siete qui voi per fortuna commissario parlava con voce interrotta e aveva qualche perlina di sudore sul cranio Cristiana mi ha telefonato adesso dalla sua camera vuole che salga da lei dice di aver trovato un'altra orchidea nella sua stanza da bagno un'altra orchidea che prima non c'era Oremus era livido vado io dalla signora O'Brien ma vi prego Olari disse De Vincenzi non avvertitela per telefono della mia presenza vi proibisco di farlo la voce di De Vincenzi suonò così dura che le due donne e Prospero come sferzati si irrigidirono grazie a tutti Grazie a tutti.